Tornano a sorridere San Cataldese e Nissa nei rispettivi campionati. In Serie D, Verde e Maranto vincono al provinciale di Trapani al termine di una partita giocata a ritmi intensi. I Granata vanno vicini al vantaggio allo scadere del primo tempo su calcio di rigore sciupato da Mercai. Nella ripresa, al 72esimo, la squadra di Pietro Infantino va in gol con Baglione. La vittoria consente a Dolenti e compagni di raggiungere il terz'ultimo posto, lasciandosi alle spalle Cittanove e Mariglianese. I risultati della non aggiornata. Trapani-San Cataldese 0-1, Locri-Castrovillari 4-0, Santa Maria-Realla-Versa rinviata, Ragusa-Cireale 2-2, San Luca-Lamezia 1-0, Mariglianese-Paternò 1-3, Vibonese-Cittanova 2-1, Catania-Sant'Agata 3-2, Licata-Canicatti 0-1. La classifica, Catania 27, Lamezia 19, Vibonese 16, Reala-Versa e Locri 15, Ragusa 14, Trapani-Canicatti e Sant'Agata 12, Castrovillari-Dicate, Santa Maria 11, San Luca-Paternò e Acireale 10, San Cataldese 7, Cittanova 4, Mariglianese 3. In eccellenza i biancoscudati vincono il derby della provincia al Palmintelli contro il Gela. Ospiti in vantaggio nei minuti iniziali con Rafa, la Nissa pareggia il conto con Di Biase su calcio di rigore. Sull'1-1 il Gela si spegne, mentre i nisseni vanno ancora in gol con Morales. Una vittoria giunta in un momento delicato della stagione, a pochi giorni dall'interruzione del rapporto con il tecnico Boncore. A fine partita tifosi e giocatori della Nissa festeggiano cantando insieme, sulle note di una canzone degli anni Ottanta di Loretta Goggi. I risultati dell'ottava giornata. Casteldaccia, Castellammare 2-0, Leonfortese, Enna 0-1, Sciacca, Parmonval 5-0, Acragas, Profavara 2-0, Mazzara, Cus Palermo 1-0, Nissa, Gela 2-1, Oratorio Marineo, Mazzarese 0-0, Resultana, Don Carlo 0-0, La classifica, Acragas 22, Enna 18, Mazzara 17, Don Carlo e Mazzarese 16, Sciacca e Profavara 15, Casteldaccia 13, Nissa 8, Castellammare, Leonfortese 7, Resultana, Cus Palermo, Euratorio Marineo 6, Parmonval 4-0, Gela 2.